Nella suggestiva cornice della Sala Convegni del Centro Pastorale di Locri si è tenuto un incontro di grande rilevanza sulla questione dell'autonomia differenziata, un tema che continua a suscitare dibattiti accesi e posizioni contrastanti in tutto il paese. L'evento, organizzato con l'intento di esplorare i limiti e le contraddizioni di un sistema che mira a riformare la gestione regionale, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama politico, ecclesiastico e giornalistico di tutto il nostro territorio. Ad aprire l'incontro è stato Pino Mammoliti, presidente del Tribunale del Malato e dei diritti del cittadino, che ha sottolineato l'importanza di un dialogo costruttivo su un tema così delicato e cruciale per il futuro della governanza italiana. Mammoliti ha messo in luce come l'autonomia differenziata possa rappresentare una sfida significativa per l'unità nazionale, ovviamente se non gestita con attenzione e spirito di collaborazione e professionalità. Il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, ha preso la parola per evidenziare le potenziali ricadute e negative di un'autonomia più marcata per le regioni del Sud Italia. Fontana ha espresso preoccupazione per la possibilità che un'accessiva autonomia possa accentuare le diseguaglianze esistenti, ma ha anche riconosciuto la necessità di una maggiore flessibilità amministrativa per rispondere meglio alle specifiche esigenze locali. Il momento clou dell'evento è stata l'intervista incontro con Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, condotta dai giornalisti Maria Teresa Ripolo del Corriere della Calabria, Gianluca Albanese della Gazzetta del Sud e Rosario Condarcuri della Riviera. L'intervista ha permesso di approfondire ulteriormente le questioni sollevate con Monsignor Savino, che ha offerto una prospettiva equilibrata tra la necessità di riformare e l'importanza di mantenere un senso di unità e solidarietà tra le regioni italiane. I contributi degli illustri partecipanti hanno arricchito il dibattito, offrendo una panoramica completa e sfaccettata delle problematiche legate all'autonomia differenziata. La loro partecipazione ha evidenziato quanto sia fondamentale il coinvolgimento di voci diverse e autorevoli per affrontare temi complessi e di grandissimo impatto sociale. Alla conclusione dell'evento è stata condotta un'intervista con Pino Mammoliti, che ha ulteriormente chiarito le sue posizioni sulla necessità di trovare un equilibrio tra autonomia e coesione, auspicando che tali discussioni possono tradursi in azioni concrete. Per il bene di tutti i cittadini italiani abbiamo per l'appunto ai nostri microfoni Pino Mammoliti. Qui intanto parlarne diventa fondamentale perché l'autonomia differenziata così inastratta in materia poco conosciuta e poco esplorata dalla gente comune, alla quale noi ci rivolgiamo sia come destinatari del messaggio sia come sollecitatori di una insurrezione per protestare contro questa riforma che dovrebbe dividere l'Italia e spezzare le reni alla Calabria, ma soprattutto andrà a radere al suolo quelle che sono già le condizioni basilari, molto fragili, delle decitele della Locote. Quindi questo nostro desiderio di bloccare la riforma Calderoli nasce dal fatto che è una questione quasi di sopravvivenza, di legittima difesa sociale. Questo è il tentativo oggi che noi tentiamo di portare avanti. Grazie.